Non solo Zichella, il Teramo si guarda intorno alla ricerca del nuovo allenatore e l'ultima idea. Ha il volto e il nome di Pierluigi Iervese, l'ormai ex allenatore del Francavilla, infatti potrebbe essere uno dei profili in grado di scavalcare proprio Zichella, tuttora favorito numero uno a sedersi sulla panchina bianco-rossa anche nella prossima stagione. Una stagione, quella di Iervese sulla panchina giallorossa, invece tutto sommato positiva. Da neopromossa la formazione del presidente Gilberto Candeloro ha chiuso al sesto posto, a quota 53 punti, a meno 2 dalla zona playoff. Nonostante i tanti infortuni, Fofana e Amenta su tutti, che hanno condizionato la stagione. Inoltre il nome di Iervese si inserirebbe in un eventuale contesto più ampio, che potrebbe portare in bianco-rosso anche qualche prospetto che si è messo in luce in questa stagione di Serie D. Ad esempio il gioiellino Yusif Baba, 19 anni, già convocato con la rappresentativa della LND al torneo di Viareggio, e che a sinistra per il diavolo sarebbe un toccasara, visti i problemi avuti nel campionato appena concluso, a trovare un vero e proprio titolare su quella corsia. Molto dipenderà tuttavia da quello che accadrà a fine mese, quando Zichella tornerà in Abruzzo per cercare di trovare l'accordo per il prolungamento di un altro anno di contratto con Campitelli. Per quella data la società sarà allargata l'ingresso dei nuovi soci? Difficile dirlo con certezza. L'ottimismo del patron di qualche giorno fa su eventuali partner che potessero affiancarlo sta facendo i conti con una realtà che è un po' più complicata del previsto. Qualche trattativa c'è, ma per il momento nulla di concreto. E questo vuol dire che il portafoglio a disposizione di Sandro Federico per il prossimo mercato non sarà così florido come ogni direttore sportivo sogna. In primis vanno messi in cantiere le uscite, al netto delle scadenze naturali. Il 30 giugno saranno liberi sia Tulli che Ilari, appetiti dalla Fermana, che vorrebbe rilanciare soprattutto la punta, reduce da una stagione con zero gol messi a segno in campionato. Per il centrocampista, dopo due anni in bianco-rosso, la concreta possibilità di cambiare aria. Iervese potrebbe essere un profilo interessante per Campitelli, anche in un'ottica di ulteriore ringiovanimento e rinnovamento dell'organico. Ma ci sarà da decidere. Con Zichella il premio a chi nel momento più complicato ha sposato la causa del Teramo, oppure virare nettamente per chiudere una stagione da dimenticare al più presto.